Allo spaccio alimentare in via degli Etruschi 2, strada statale 106 a merito Portosalvo, frutta 99 centesimi, anguri a 35 centesimi e tantissimi altri prodotti. Alcuni esempi, accia candeggina 5 litri 2,59 euro, pastata civi 89 centesimi, sorbetteria San Montana 2,49 euro, birra peroni 33x6 2,99 euro, latte stella 89 centesimi al litro, detersivo general 1,79 euro, telipton 69 centesimi, silcanino zappalà 1,79 euro, fettine di bovino a scelta 8,90 euro al chilo, prosciutto cotto di parma 1,99 euro letto, prosciutto cotto galbani 99 centesimi letto, orario non stop fino al 15 agosto. Prossimamente si accettano buoni pasto, spaccio alimentare in via degli Etruschi 2, strada statale 106, merito Portosalvo.